Sul sequestro di ieri di Elena, 5 anni, trovata morta oggi, le indagini dei carabinieri e della procura di Catania hanno puntato sia sul rapimento che sulla denuncia della madre che è apparsa poco credibile nella ricostruzione fornita. Alcune anomalie sono emerse subito agli investigatori, la dinamica del sequestro nel racconto della donna, tre uomini incappucciati e uno armato di pistola, nessun testimone, oltre lei, dell'episodio. Non chiama subito aiuto sul posto, telefonando al 112, ma prima va a casa e poi con i familiari dai carabinieri a presentare la denuncia. Anomalie che hanno portato carabinieri e procura a pressioni sulla donna che ha rivelato dove trovare il corpo della figlia. La mamma di Elena sta continuando ad essere nuovamente interrogata dalla procura. Nell'interrogatorio della notte scorsa la madre era stata lungamente sentita e durante un lungo interrogatorio le erano state contestate varie incongruenze, lo afferma il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sulla posizione della madre di Elena. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere, aggiunge il procuratore, adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno transennato un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la mamma di Elena.